Proposta alla Ministra Fornero e al Presidente Monti che lo Stato usi tutte le sue risorse affinché siano aiutate le aziende che desiderano assumere altri dipendenti affinché esse spendano la stessa cifra per contributi e stipendi ma diano lavoro in più. È semplice la proposta. Tutti gli sgravi che oggi sono parte di una serie di contribuzioni per sostenere persone che non lavorano tutti i contributi europei per incentivare il lavoro siano devoluti a sostegno delle aziende che siano disposte ad assumere persone in più spendendo la stessa cifra che oggi spendono per eseguire il loro lavoro sia lo Stato a rinunciare a importi nella convinzione che il totale dei contributi effettivamente versati siano gli stessi di ora dunque se lo Stato percepisce dal sistema delle imprese e delle industrie lo stesso importo di ora partecipa in modo che lavorino tutti gli italiani avranno una entrata del 12% in più e con questo 12% in più di retribuzioni si avvia finalmente quella ripresa che tutti auspicano è stata un'ottima